Partiti, terza corso in programma e a prime otta ora sulla distanza dei metri 1.600 riservata a puro sangue arabo di tre anni. Fa partenza Roverella che si porta a condurre sul numero tre regata che ha all'interno Renza. Corsi esterne per Rosa di Chia con all'esterno Romantica. Cavalli che affrontano la prima piegata con il battistrada Roverella che conduce nei confronti di Rebecca Di Gallura che risale in seconda posizione. Con in terza all'esterno la giuba della squadra di Aspa, Rosa di Chia, in scia Renza, Rajid, mentre cede terreno regata. Cavalli che sono a metà della rete opposta con il battistrada Roverella, tre quarti di lunghezza di vantaggio nei confronti di Rebecca Di Gallura che all'esterno Rosa di Chia, in scia Renza, Rajid, Romantica, Rasino, mentre ha perso totalmente contatto regata. Inizio della piegata conclusiva con Roverella richiamata la frusta nei confronti di Rebecca. All'esterno Ragid, Cavalli addirittura dove Roverella mantiene ancora il comando ai 300 conclusivi nei confronti di Rebecca Di Gallura. All'esterno progredisce Rosa di Chia, 200 conclusivi con l'attacco deciso da parte di Rosa di Chia su Roverella. Passa Rosa di Chia, Roverella che riviene all'interno Rasino, Rasino che piazza lo spunto decisivo e Rasino che risolve con Marco Biagioti in doppio sul numero 8 Roverella ed il numero 7 Rosa di Chia. Si attende l'ordine ufficiale. Quindi bis per Marco Biagioti che in sella a Rasino sigla il premio Tauro riservato ai puro sangue arabo di tre anni.